Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, è terminata San Siro 1 a 0 per l'Inghilterra L'Italia ha il proprio futuro, ha il futuro, l'accesso nelle proprie mani, l'accesso alla Final Four nelle proprie mani Perché dico questo? Perché l'Ungheria ha battuto probabilmente a sorpresa la Germania E quindi l'Italia, se dovesse battere l'Ungheria, si ritroverebbe prima in questo girone Io penso che l'Italia, diciamo, nella sfortuna che ha avuto sia stata fortunata, mi spiego meglio Penso che affrontare squadre come Germania e Inghilterra in questo momento sia stata comunque abbordabile Perché sono due squadre che sono in difficoltà L'Inghilterra, dopo l'Europeo, non è riuscita a ripetere un certo tipo di prestazioni E anche la Germania è evidentemente in calo L'Ungheria sicuramente è la squadra più abbordabile, però è quella che probabilmente tra tutte e tre è più squadra Tra tutte e quattro, tra tutte e tre le altre, quindi Italia, Germania e Inghilterra è la più abbordabile Però tra le quattro, secondo me, è la più squadra E quindi adesso l'Italia dovrà essere brave a andare a giocarsela e a vincere per appunto accedere alla fase finale Io, ragazzi, continuo a vedere tanti limiti in questa nazionale Ma come l'ho visto oggi nell'Inghilterra, ad esempio, io non capisco perché A parte le assenze, perché secondo me, ad esempio, un giocatore come Rashford Un giocatore che negli Inghilterra deve essere un giocatore imprescindibile, se sta bene Però non capisco perché comunque non provare anche a cambiare modulo Nel senso, aveva Abram in panchina, stai perdendo Perché non provare a giocare con un 4-4-2, un 3-5-2 E perché non mettere dentro appunto Tommy Abram E giocare con le due punte Oppure provare a mettere dentro anche un Alexander Arnold Che sappiamo che ha un certo tipo di piede Quindi nel senso, io penso che L'Italia nella sfortuna, ha avuto la fortuna appunto di trovare altre squadre in difficoltà E poi questo non toglie il fatto che comunque l'Italia abbia dei meriti Ma non toglie neanche il fatto che l'Italia vincesse anche la National League Conterebbe, secondo me, poco o nulla Paragonata all'eliminazione del Mondiale Cioè, a me che l'Italia vinca anche la National League Mi frega assolutamente nulla Io ricordo una frase di Wenger che disse Se fermiamo della gente per strada Nessuna di loro saprebbe spiegarvi come funziona la National League E io sono d'accordo Però comunque, lo trofeo e l'Italia L'Italia ha la possibilità di accettare alla parte finale A me la partita non è piaciuta particolarmente Qualche azione, secondo me è stata interessante Qualche trama Però a mio avviso non è stata una grande prestazione Nell'insieme O comunque non è stata una bella partita Ecco Bisogna fare complimenti all'Aspadori per i gol E Per la personalità che ha avuto per cercare quella conclusione Secondo me Si è gasato Dopo essere riuscito a tenere quella palla Con quello stop Che non è stato perfetto Non è stato perfetto Però comunque si è riuscito a recuperare il pallone Ci ha provato E ha trovato un gran gol Quindi Sicuramente complimenti a lui E poi ragazzi come altre trame C'è stato il colpo di testa nel primo tempo Il pallone di Scamacca Il pallone di Di Marco Che secondo me era un tiro cross Non sono sicuro che fosse un tiro Poi la stavo venendo in streaming Ragazzi Quindi Suizio della Rai ogni tanto Si bloccava Quindi non sono riuscito nemmeno a vedere il replay Con l'occasione lì Però Mi è sembrato più un tiro cross Anche se Di Marco Ha un bel piede Ecco Quindi l'Italia Secondo me Secondo me Deve Deve Lavorare tanto Deve lavorare tanto Perché sappiamo tutti I limiti che ha l'Italia Inutile che io stia qui a dirli Però comunque Nonostante questi limiti Riuscisse a passare il gironi Accedere al Final Four Sarebbe comunque Sarebbe comunque Ottimo Senza dubbio Però ripeto ragazzi Occhio Occhio Perché l'Ungheria È una squadra Poi non ha dei campioni Se è ben chiaro Non c'è Non c'è il pusca Se è la situazione Però È una squadra Allenata bene Comunque Pericolosa Poi Sicuramente Arriveranno anche un po' gasati O magari invece sentiranno la pressione Quindi bisognerà capire Anche loro Come vorranno giocarsela Se preferiranno Chiudersi Per cercare di ripartire Per cercare comunque Di mantenere i punti di vantaggio Oppure no Però ripeto ragazzi L'Italia deve migliorare Deve migliorare tanto A me la coppia Onestamente Scamacca Raspadori Non piace Non lo so ragazzi A me questa nazionale Non trasmette nulla Cioè Non mi trasmette nulla Poi è vero che Ha dei giocatori importanti Che Onestamente Non riesco a vedere Una partita dell'Italia Senza pensare Che l'Italia Andrà ai mondiali E E sti cazzi La Nation League Per dirla così In finesse Però Se mi devo limitare Alla partita di oggi Secondo me L'Italia è stata superiore Inghilterra Ma perché Secondo me è stata Inesistente L'Inghilterra Ed è preoccupante A mio avviso Per l'Inghilterra Cioè Non ha praticamente Creato Occasioni vere e proprie Comunque avendo giocatori Qualitativamente importanti Perché Sterling È un giocatore Che a me piace tantissimo Harry che C'è bisogno di presentarlo C'è Belling Che è un bel giocatore Quindi nel senso È giocatore di qualità Ne aveva anche panchina Quindi ripeto Non capisco Non voler provare A cambiare qualcosa Dal punto di vista Del modulo Però ragazzi L'Italia oggi È stata superiore Si merita i tre punti E Vedremo cosa combinerà Con l'Ungheria Sono Sono curioso Perché può essere Veramente una partita interessante Detto ciò Detto ciò Ripeto L'Italia ha tanti limiti Tanti limiti Però comunque sia Riuscissi veramente Ad arrivare Nelle Final Four Con il girone che In cui era finita E Obiettivamente Tutti si aspettavano Probabilmente Un passaggio di turno Da parte della Germania Direi che L'Italia ha fatto Ha fatto sicuramente Ha fatto sicuramente bene E Se doveva saputo qualificarsi Avrà fatto ancora meglio Detto ciò ragazzi Ciao Gio Ci vediamo molto presto Io vi invito a iscrivervi al canale Diffondete il verbo E vi mando un forte abbraccio Ciao